Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Daniele Bossari e Filippa Lagerbach hanno coronato il loro sogno d'amore, quello del matrimonio solo da pochi anni, nel 2018, dopo 18 anni dal loro primo bacio e alla presenza della loro unica figlia, Stella, che oggi ha 19 anni ed è bellissima, proprio come i suoi genitori. Filippa Lagerbach è testimonial della fondazione Umberto Veronesi e si tratta di un tema a lei molto caro per svariati motivi. E convinta che ogni VIP debba dedicare parte del suo tempo a sensibilizzare su tematiche così importanti ma, nello stesso tempo, ha vissuto l'esperienza del cancro, in quanto suo marito Daniele Bossari ne è stato colpito. così Filippa ha deciso di parlarne in una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera. Come un fiume in piena, ha parlato apertamente del tumore alla gola che ha colpito il conduttore e di come, grazie alla forza del loro immenso amore, è stato possibile affrontarlo insieme. Quando le si chiede come sta suo marito, Filippa risponde, è in fase di follow-up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase guarito definitivamente passano anni. I momenti bui non sono mancati ma il potere dell'amore ha fatto affrontare tutto insieme, mano nella mano, proprio come hanno sempre fatto in ventuno anni. Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l'amore da forza, ha dichiarato Filippa, per poi aggiungere, ci siamo affidati alla scienza. Le sue parole hanno rappresentano un pugno al cuore per tutti i fan di Daniele Bossari ma, ovviamente, sono, nello stesso tempo, un invito a riflettere sulla grandezza del sentimento che unisce questa coppia.